Si dice che il burlesque sia l'arte al femminile per eccellenza, che con abiti lussuosi e corsetti scintillanti si possa conquistare il cuore del pubblico ammaliandolo in un gioco di seduzione senza fine. Si dice anche che si possa riacquistare la sensualità persa tra il tran tran quotidiano e le iatture. Sono Ella Bottom Rouge e vi racconto questo e molto altro a Pop the Pasty. Attia! In tanti anni di lavoro nel burlesque ho incontrato tantissime persone diverse che mi hanno arricchito. Pubblico, colleghe, performer, allieve, tutte loro mi hanno regalato qualcosa. Per cui direttamente dal mio salotto, grazie a se lo bello! Benvenute a Lily Love e Fai Schifo, due colleghe che hanno fatto dell'arte drag il loro lavoro e non solo. Ciao ragazze! Ciao Ella! Ciao Ella! Ciao! Benvenute davvero! E per chi non vi conosce, chi siete? Cosa fate? Cosa ci raccontate? Inizio io! Dunque, allora, io sono Lily Love e sono un'artista drag da almeno 14 anni. Ho iniziato in Sardegna. Che c'è? Ho iniziato in Sardegna nel 2008. E ho continuato appunto questa carriera sino a che non ho deciso poi nel 2014 di trasferirmi a Milano, che è appunto la città in cui lavoro da ormai nove anni. e lavoro al Plastic Club di Milano come drag resident e performo come burlesker, ma allo stesso tempo lavoro anche come drag model. Che fai invece? Beh, io sono una ragazza del Trentino, a differenza della collega, scelgo giù dai monti, dai monti valli in fiore, portando con amore... Vabbè, potevo portare di meglio. Ma detto questo, sono una cantante, sto provando a fare la comica, anche se il mio umorismo non lo capiscono in molti. Forse lo capiscono le persone del Trentino. Ma in Trentino non si ride? No, 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 si lavora. Si mangia le mele, basta? Anche, per cui lavori. Sì. Raccoglie le mele mentre mangi? Le mele? Sì. Detto questo, sono arrivata qua da un po' di anni, io a differenza di Lili non riesco a tenere il conto né da quando faccio drag, né da quando quello che faccio è considerabile drag, probabilmente non è neanche detto che lo si definisca anche adesso, però mi piace farlo. Lavoro come resident alla Toilet Club di Milano, che è una discoteca, ma ormai da anni, con tutti voi, tante colleghe, abbiamo anche la possibilità di portare quest'arte fuori dai muri scuri del club, ma anche all'interno di altre situazioni, per cui appunto cantare, fare performance che sia lip sync, in tante venue diverse, da quelle diurne fino a quelle serali. Quindi si fa di tutto un po' finché ci si diverte. E' il mondo dello show business. Esatto. Quello che mi arriva fortissimo da entrambe è proprio la vostra differenza, tantissimo. Lili, tu hai fatto della tua immagine proprio unico, non so se sei più tu, icona di te stessa, la tua immagine, il tuo anche essere così retro, avere questo look, che comunque è molto definito, che mescola tantissimo il burlesque, l'immaginario showgirl, anche quell'immaginario molto patinato di una donna, veramente di altri tempi. Da dove arriva la tua ispirazione e come ci sei arrivata? Allora, innanzitutto inizierei col dire che, come dico sempre, sono tutta io, tutta io nel mio, No, ok. No, scherzo. Allora, è stato un percorso, è stato un percorso evolutivo, il personaggio stesso, perché ho iniziato appunto, sui 16 anni in Sardegna, a esibirmi come drag, e a livello emergente, diciamo che all'epoca non era così fruibile avere internet, e reference a portata di mano, tutorial, eccetera. Quindi ho iniziato ispirandomi a ciò che è stata appunto la mia adolescenza, ovvero le pop star di base. Quando poi sono entrata nel mondo drag, le più grandi mi hanno sempre detto tu devi trovare la tua strada a livello stilistico, e da lì mi sono appassionata tantissimo a tutto quello che era appunto l'immaginario retro, vintage, burlesque, piuttosto che film d'epoca, opere d'arte, e studiando proprio l'estetica di questo immaginario ho creato piano piano il mio personaggio, ed è un percorso che è in continua evoluzione, perché ci sono tantissime cose da imparare, perché è un'epoca intramontabile, e l'amo per questo. Non sapevo se interromperti quando hai detto la storia del tuo immaginario che non c'era internet, perché io continuavo a pensare i mammutones. Ma io non ho reso niente di mammutones. Sei solo di showgirl tu. Amore, sì, sì, al massimo di pelliccia da mettere sopra. Showgirl tutta la vita, fan fatal, al drama pazzesco. E fai, invece, se io penso a te, penso, Lipstick Assassin pazzesca, e poi anche un po' di palato sopraffino, no? Carrà sicuramente, tantissimo, che poi fa parte della nostra pop culture, però Milva, no? Dei pezzoni proprio storici italiani. Sì, allora, riguardo Lipstick Assassin, innanzitutto grazie. Una, fai in modo di imparare le canzoni a memoria, si spera che funzioni. Sono contenta sicuramente se è quello che traspare il fatto che le cose piacciono e siano venute bene. Riguardo, invece, al gusto musicale, siamo molto diverse, ma su certe cose siamo molto simili. Per il retro, dici, per questa cosa della riscoperta. Sì, per il retro, ma anche tanto per il fatto che a entrambe piace studiare. Vero. Ho sempre avuto la sensazione che, soprattutto adesso in cui magari la nostra arte è diventata mainstream in certi ambienti, si cerchi sempre di mangiare un po' la pappa pronta, la più bella che ti trovi davanti e cerchi di farla tua. Che va bene, non ci sono dubbi, ma secondo me l'arte per essere interessante non deve essere la prima cosa che ti trovi davanti. deve prenderla, ma deve starci dietro la ricerca. E lo studio che c'è dietro è quello che porta te anche a non annoiarti poi di quello che fai. Non ti consegno sempre la stessa cosa. E quindi, a partire dalle grandi dive comunque italiane, di cui ovviamente io sono decisamente innamorata, ad altre canzoni sempre più ricercate, che magari non sono così ben conosciute, cioè il bello è poterle portare a un pubblico che magari non le conosceva o che è giovane o che improvvisamente se le ricorda proprio perché le rendi fruibili di nuovo, le rendi più facili come accesso e hai studiato e insomma al professore fai vedere che eri pronta e preparata. E questo credo sia il bello nell'arte, in qualunque tipo di arte e nell'arte performativa tanto più perché molto spesso viene semplificata. Dire che un quadro è complicato è facile, è un'opera importante, imponente, simbolica, l'arte performativa viene spesso semplificata e anche una cosa facile facile in realtà sotto può avere un mondo e entrambe obiettivamente quando non litighiamo tendenzialmente parliamo di spunti e cose che ci piacciono, che abbiamo scoperto, che ci ricordano, guarda come ritorna a quel periodo ed è la cosa bella ed è il motivo per cui dopo otto anni siamo ancora amiche purtroppo. Ah, quindi questo conto lo riesci a fare? Da quanto tempo te fai drag? No. La nostra mentre lì come una showgirl se li conta tutti quegli anni che se li è sudati? Amore, sì. Come ti capisco? Il mio sogno è avere completamente una villa con il camino, un quadro olio su tela di me nel 2012 completamente nuda. Sì, è un bel tappeto di leopardo davanti, ovviamente, sintetico. sì, è nulla, è il caminetto acceso, io davanti che riguardo le mie memorie mentre bevo. Questo è il mio sogno. Che fantasy. Comunque, questa cosa di cui stavamo parlando di andare a studiare veramente le reference e portare sul palco quello che non è soltanto la reference ma è anche la cultura, questo c'è tantissimo anche nel mondo del burlesque, che anche quella è un'arte performativa, un'arte che deve avere un sipario, noi raccontiamo comunque qualcosa, deve avere una scenografia mentale di quello che succede, di quello che tu passi al pubblico, però è davvero una volontà portare fuori certe cose, e anche studiare l'estetica di quello che noi facciamo, per cui sia della musica che del look della parte osteriore. A questo punto vi chiedo da dove arriva la vostra reference di quello che noi vediamo in questo momento? Perché anche il vostro trucco è opposto. Allora, per quanto mi riguarda in realtà per il look di oggi ho attinto a quella che è una delle mie ispirazioni principali, ovvero il burlesque showgirl ma anni 60, quindi molto carico, molto esagerato, molto camp, molto divertente allo stesso tempo, ma quello che ci tengo a dirti è che il mio personaggio ha un guardaroba diverso che cambia rispetto all'occasione, nel senso che oggi ad esempio mi sono vestita esattamente come la fantasia vera e propria di Lily Love per un'intervista, ad esempio, quindi vestito, guanti, boa, molto elegante, eccetera, però non è lo stesso tipo di look che userei ad esempio al club o che uso al club o che uso durante i miei show o che uso durante un altro tipo di eventi. L'immaginario è quello ma a livello stilistico cambia in base a ogni necessità, evento, eccetera. Quindi insomma è molto bello giocare con questa cosa perché fa sviluppare il personaggio veramente in base a varie situazioni a 360 gradi. Il personaggio è una persona diciamo, no? Sì, sì, sì. Almeno noi pensiamo a un personaggio lo pensiamo anche in situazioni diverse. È autentico sicuramente. Esatto. riguardo al personaggio la cosa che secondo me è molto interessante proprio dell'arte drag dove mischia le sette arti buttandole un po' assieme cercando di riportarle che a differenza dal teatro in cui hai un personaggio che nasce e finisce sostanzialmente in un sistema in un periodo di ore il drag in realtà ti porta a vivere un personaggio che si evolve nel tempo e quindi all'inizio è anche che parrucca metto a un certo punto diventa fai Lilli che parrucca metterebbe per fare questa cosa se andasse quindi cresce un po' nel mio caso io sono un po' meno statica io ho fatto un po' più fatica perché a differenza della mia cara amica io sull'estetica ci ho messo un po' di tempo in più perché in realtà non era la mia passione iniziale a me piaceva stare sul palco trovare tutti i modi per starci e per fare spettacole portare il mio poi insomma grazie alle amiche ho cominciato sempre di più a trovare la mia strada e a trovare di più delle ispirazioni da cui da cui partire sicuramente a livello estetico se devo dire ciò che amo di più è tutto ciò che arriva dalla musica pop rock glamour rock degli anni 80 una fantasia legata tra David Bowie Peter Gabriel Lenny Lennox e tutto quello che in Italia poi veniva copiato in molte virgolette ma comunque imitato per me è una grande fonte di ispirazione e credo che appunto ormai dopo dopo tanto tempo tutto diventi un po' una variazione sul tema cioè fai si sente a suo agio quando fa queste cose qua quindi cerco poi l'ispirazione a seconda di oggi sembro un po' la cugina con i guanti rossi della Rottermeier ma era così perché oggi oggi questa è la tua fantasia la mia fantasia oggi era un po' così becchietatrice infatti dopo interrogo d'altra parte comunque l'ispirazione non è lineare no? cioè io posso trarre ispirazione e trovarle immediatamente o ho bisogno in realtà di fare più ricerca anche di appropriarmene e di sentirme la mia esatto per me salire sul palco è stato facile da piccola ero appassionatissima di recitazione danza canto cioè meglio che non canti io eh ma recitazione sì per cui dopo i primi corsi di teatro poi l'accademia al mio primo spettacolo di burlesque è stato amore al primo pasty e volevo farlo anch'io e per me connettermi con l'audience e poi diventare Ella è stato un passaggio perché Ella è come se fosse Daniela Piupiù è la versione potenziata di me allora forse è a questo punto un po' scontato ma io ve lo chiedo lo stesso il mondo del burlesque entra un pezzettino nelle vostre vite e non per forza erotismo sensualità cioè il burlesque inteso anche come burla no? chiaro chiaro beh che dire per quanto mi riguarda ne fa parte abbastanza pieno perché praticamente appunto sin dai primi anni in cui ho iniziato a performare mi sono ispirata a questo immaginario a questo mondo a 360 gradi c'è da dire una cosa a livello stilistico se noi andiamo a guardare anche il drag nel passato possiamo vedere sempre pensiamo subito al classico drag con piume di struzzo testali paillettes questa cosa mi fa molto riflettere perché questa visione abbastanza classica e old school fa pensare che giustamente il drag si rifà alle donne più eccentriche alle figure femminili più eccentriche delle epoche passate quindi allo stesso tempo diciamo che fino a appunto gli anni 90 a livello stilistico il drag si ispirava alle più grandi showgirl del mondo quindi con questi testali piume paillettes gioielli giganti eccetera post 90 dopo l'avvenimento appunto del clubbing club kids eccetera e dai 2000 in poi a livello stilistico il drag è molto cambiato perché si è ispirato a un altro tipo di donna perché si evolve come tutte le arti in realtà soprattutto quelle performative si evolve ad esempio oggi come oggi troviamo un sacco di drag ispirati a questo immaginario molto curvi Kardashian capelli lunghi lisci trucchi molto sfumati di un certo tipo quindi insomma penso che il burlesque ispiri le persone che ne vengono realmente attratte no a prescindere e molti definiscono anche a livello stilistico quello che indosso quasi come qualcosa di molto molto classico ma in realtà è perché io sono appassionata di questo classicismo però comunque di base ognuno può fondamentalmente ispirarsi a quello che vuole il burlesque secondo me è però non da sottovalutare nell'arte drag per chiunque di noi perché appunto è stata la prima forma di spettacolo libera che ha rotto le barriere di genere a prescindere e penso anche che tutto ciò che nel drag è un cambio d'abito un qualcosa di spettacolare un qualcosa di inaspettato un qualcosa di comico sia quasi lo definirei neo burlesque non lo so trovo queste due forme molto vicine sono molto vicine hanno qualche ponte in comune bello bello importante perché la base secondo me che avvicina queste due arti è l'autoironia cioè voi ragazze siete molto abituate a farvi reading no? vi leggete a vicenda come si lei non sa leggere lei non sa leggere però c'è proprio questa cosa di come dire dell'insulto facile no? sì ovviamente è estremizzato all'energima potenza chiaro ma come la visione autoironica no? della cellulite le forme anche la mimica facciale che noi possiamo avere sul palco è estremizzata per auto appunto prenderci in giro e decostruire appunto le il burlesque sostanzialmente ma come ogni forma di arte ogni forma di arte espande un'emozione una sensazione una modalità un comportamento il burlesque prende la sensualità e dice mettiamola sotto la lente di ingrandimento e facciamola diventare ancora più grande il drag ruba continuamente ininterrottamente cose da qualsiasi tipo di arte dicendo voi l'avete fatta grande io la faccio più grande eppure è peggio quindi il concetto è che il drag esagera ciò che è esagerato per farlo diventare tendenzialmente troppo ma come sempre quel troppo qui non riesci a staccare gli occhi di dosso e sicuramente sono delle arti che comunque sono dei grandi contenitori no? cioè non c'è un modo di fare drag non c'è un tipo di ispirazione non c'è un tipo di genere come dicevamo prima ma in quel contenitore lì ci entrano tantissime arti tantissime influenze diverse esatto e secondo me il burlesque a prescindere è sempre da tenere in considerazione a livello comunque iconografico e stilistico per quanto riguarda la storia della performing art a livello femminile e di rivoluzione di genere è la base ah io ho provato a sedurre fai e farla venire a scuola non vuole cioè hai un altro tipo di ironia burlesque secondo me dentro sì ma perché lei sembra sembra alcogan praticamente sia in drag che out of drag è difficile è difficile da femminilizzare purtroppo è così come ti permetti cafona ma allora è che io così mi sento sensuale come le targhe ai tempi della Moratti a giorni alterni esatto e quindi non lo so metti che arrivo a scuola e quel giorno non mi sento sensuale e dovresti fare lezioni e cosa faccio rimetto l'intonaco alle pareti no non è vero è veramente ricerca di sé il giorno che tu ti senti così sai così you embrace it ma allora io credo che ogni cosa sia al suo tempo e obiettivamente io sono cambiata completamente di tempo in tempo conoscendo le persone perché la cosa che più amo è del nostro ambiente il fatto che non si sta chiusi dentro la casa propria inteso che non sono là col mio pennellino a dipingere da ferma ma mi piace condivide lo sapete io per esempio sono quella che non si trucca mai da sola perché mi piace prepararmi con le amiche il momento backstage è bellissimo comunque perché ci vengono fuori delle chiacchiere dei momenti e la condivisione e anche veramente condividere il momento del trucco è parte fondamentale anche dell'andare in scena assolutamente e poi voi due questa cosa bisogna dirla siete due delle insegnanti della Rouge Academy per cui avete avuto anche questa ulteriore piede all'interno di un'accademia del burlesque parlando anche di cose che fanno parte proprio del nostro mondo per cui etica appropriazione culturale stage make up attitudine cioè cose veramente importantissime molto molto ed è bellissimo come appunto queste arti riescano a conciliarsi l'un l'altra incredibilmente perché lo scambio culturale artistico tra questi due mondi ripeto è fondamentale e lo è stato anche per la mia crescita artistica quindi giustamente le esperienze maturate a prescindere per quanto riguarda make up costume performance le basi sono quelle che ci accomunano ed è giusto condividerle tra di noi adesso faccio la rompiscatole io mi è venuta in mente una cosa perché voi non lo sapete noi abbiamo scritte le domande di lato e ho visto la domanda allora a questo punto ho visto questa bella domanda sentiamo non è io noi ormai ci conosciamo da anni ormai hai cominciato a fare spettacolo con le draghe qui e mi domando ma allora a questo punto te che fai burlesque cosa hai preso tu dal drag in questo periodo da quando ci conosci e portato nel tuo burlesque completamente estemporanea non ne aveva idea e adesso aiuto cosa ho preso dall'arte drag forse un po' più di leggerezza perché alcune volte è la percezione che il mondo del burlesque sia è una nicchia all'interno di una nicchia all'interno di una nicchia di una nicchia di una nicchia e c'è bisogno tanto di leggerezza quindi parla di te sì non di me sì sì cioè riportare l'arte alcune volte dove deve stare in mezzo al pubblico perché abbiamo bisogno di ridere insieme dei successi degli insuccessi e di toccarli con mano se no non faremo spettacolo se no noi non rideremo di noi stesse vero cioè noi siamo capaci di salire sul palco forse più di altri artisti perché noi il pubblico lo vediamo davvero davanti negli occhi no abbiamo quest'altra cosa in comune il fatto che non c'è la quarta parete non c'è niente che ci protegga no noi saliamo sul palco che ci siamo appena mollate o che è successa qualcosa di più serio o ci danno fastidio le scarpe col tacco perché o ci siamo dimenticate a casa le calze cioè ci ho visto salire sul palco in delle situazioni assurde o saliamo sul palco e ci dimentichiamo il pezzo succede anche questo e non possiamo mentire siamo davanti al pubblico sempre e prendere tutto con un po' più di leggerezza e di condivisione secondo me è una cosa che io sto prendendo sempre di più dall'arte drag vero grazie ma beh grazie a voi ma non abbiamo finito perché dico saremo qui a pettinare le parrucche perché anche io ne ho una folta praticamente io voglio chiudere questa puntata regalandovi un pezzettino di lezione di burlesque e cosa più indicata se non lo striptease dei guanti di seta che vedo che entrambe portate sì 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 per cui se siete pronte che casualità che casualità ma non me lo sarei mai aspettato ne manco io ragazze siamo qua per questa lezione sui guanti che forse sono uno degli accessori in realtà che più amo del burlesque e come dico sempre il senso non è che abiti io mi tolgo ma come li tolgo quanto tempo ci metto cosa vado a sottolineare e a svelare quindi pronte do la sensazione al pubblico che questo guanto sia meraviglioso ma che ancora di più stia toccando la mia pelle e la mia persona in maniera sensuale è incredibile quindi vado a sfilare il primo guanto con l'altra mano e un due tre uuu e lo sfilo leggerissimamente tenendolo quell'altra e voilà maestro sono indietro un secondo e tu hai detto uno e io ero ancora lì che cercavo di prenderlo e io ho detto uuu quindi uno due tre uuu e il guanto v la v del nostro pubblico ma il secondo guanto deve essere più intenso più sexy più col guanto io tocco sottolineo e lo porta alla bocca a micco verso il pubblico ma cosa vuol dire gne 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 e il suono della la descrizione del momento del del pathos delle e scompare pian piano verso l'incavo delle caos scende sempre più giù prende il tacco e voilà il guante è volato è volato l'ho messo proprio lì abbiamo visto due modi super sexy per liberarci dei guanti per sottolineare anche la nostra gestualità le nostre mani amiche io sono convinta che questi esercizi vi saranno utilissimi io già li conoscevo in realtà ti dico la verità però è giusto insegnare a chi non è molto avezza un po' di femminilità amiche grazie di essere state qua in questa prima puntata di pop the pasty io sono convinta e questi consigli vi saranno utilissimi a casa fatemi sapere come togliete il guanto taggatemi nelle vostre stories grazie fai schifo lili love ciao muah